Allora, ospite di questa nostra trasmissione, 15 minuti con, che potete vedere su Google, su YouTube, per radio, notte stereo web. Allora, non è difficile presentarlo perché questo nostro ospite lo conoscono tutti, ad Avellino perlomeno c'è, in Irpina e in Campania, perché il nostro ospite, il dottore Pietro Bianco Psichiatra e il capodipartimento dell'ASDRA, ma noi non vorremmo subito parlare di quello che è il suo mestiere, quello che ha fatto per 43 anni, che io sappia. Vorremmo prima chiedere, all'ingresso abbiamo visto delle foto da calciatore, che cos'erano Pietro? È il mio hobby, diciamo che per tutta una fase della mia vita io ero conosciuto più come un calciatore allenatore, del carotenuto e anche dell'Irpinia, che non come psichiatra. Tanto è vero che le persone facevano fatica ad associarmi, insomma. Quando andavo per compiti istituzionali, soprattutto in Altirpinia, dove essendo capodipartimento andavo a fare dei controlli, Ariano, Sant'Angelo, quelle zone lì io le ho conosciute in anni passati proprio per il mio hobby calcistico. Con il Baiana com'era la realtà? Quella calcistica? Erano incontri di fuoco? No, con il Baiana sono stato solo un anno, sono stato sempre con il carotenuto, con il quale ho prima giocato per tanti anni e poi ho fatto l'allenatore e il dirigente in qualche modo. E lo è Savellino? Con l'Irpinia della Buonanime di Sibiglia ho fatto due anni, abbiamo vinto un campionato di produzione in eccellenza, poi siamo andati in eccellenza, potevamo fare la serie D, lui mi propose addirittura anche un contratto, io dissi no, io sono prevalentemente un medico, quindi l'ho fatto per hobby, fin quando potevo conciliare le due cose le ho fatte. Attualmente ho fatto un anno, ho dato una mano a Rastelli e non è andata bene, ho fatto il mental coach l'anno scorso, anche se la mia figura era un po' più periferica, dove alcune cose non hanno funzionato, soprattutto la gestione del gruppo e alcune scelte che ha fatto il mister da allora, non sto facendo niente, ho avuto qualche proposta, però preferisco in questo momento insomma dedicarmi più a livello di osservatore, di tifoso davanti alla TV, sia del Napoli che dell'Avellino. Allora Pietro, cominciamo a parlare di alcune cose che riguardano la professione, capo dipartimento salute mentale, ci conoscono tutti, neuropsichiatria infantile, poi arriviamo anche al centro per l'autismo. Allora, cominciamo con lo dire, i tuoi collaboratori, sempre fedeli. Allora, io ho fatto il capodipartimento, adesso dal 6 settembre io sono in pensione, formalmente con l'ASL, anche se l'ASL mi ha fatto un riconoscimento. Io tengo una delibera. Libera. Sì. Come si dice, eccolo qua, primaria merito. Primaria merito e supervisore ai percorsi assistenziali. Io l'ho considerato quasi una specie di leone d'ora alla carriera, facendo un paracone con il Festival di Venezia del cinema. Chiaramente questo significa che io ho cercato di fare del mio meglio, non solo con i pazienti, perché ne ho seguiti tantissimi, ma anche nell'organizzare i servizi. Difatti come capo Dipartimento afferivano al Dipartimento di Salute Mentale sia la Neuropasiativa Infantile che il CERD, che la salute mentale adulti, nonché la salute mentale in carcere, nonché alcune strutture residenziali, sia per pazienti ordinari, sia per pazienti autori di reato tipo la Rems di San Nicola Baronia. Quindi ho dovuto garantire in questi anni, soprattutto durante la pandemia, un livello organizzativo, perlomeno diciamo così, protettivo per pazienti e operatori. E questo mi è stato riconosciuto, perché io creai una task force con dei miei collaboratori bravissimi, che io spero che allora venga riconosciuto il merito, che sono stati un'avanguardia sia per quanto riguarda i tamponi, sia per quanto riguarda le vaccinazioni, sia per pazienti nostri, ma sia per pazienti normali che stavano in altre strutture, tipo RSA geriatrica, disabili, ma anche hanno fatto i drive-in per persone normali, nelle scuole, quindi sono stati una task force importante. Chi ti sostituirà? Il dottor Domenico Dragone. Sono contento, lui è il direttore della Reposizione Infantile, ma al di là del suo ruolo specifico, ha una capacità organizzativa e è stato un mio collaboratore diretto. Collaboriamo in modo stretto, senza nessun tipo di problema. Lì merita questo tipo di riconoscimento. Parliamo un po' di autismo, permettimi, anche perché io sono un seguace della tua filosofia, sono uno di quelli che pensa che da handicap a handicapace, come tu dici, dovrebbe essere proprio il percorso da privilegiare per questi ragazzi. Io sono contento che tu ripeti questa formula che è stata fortunata, ma quella fa parte di una visione. Noi quando abbiamo elaborato questo percorso e tu sei stato uno dei miei interlocutori insieme ad altri esponenti delle famiglie, avevamo due visioni. Garantire un'assistenza lifetime ai pazienti affetti da autismo e farli uscire dalla logica, diciamo così, della disabilità, del ritardo, per poter anche utilizzare il loro potenziale in modo diciamo così più creativo. Perciò questo tipo di forma che il loro handicap poteva diventare una questione da utilizzare in senso positivo, perché abbiamo sgombrato il campo da alcuni luoghi comuni da alcuni pregiudizi. Il paziente autistico non è un ritardato mentale, è solo uno che funziona diversamente con la mente e hanno delle capacità che altri non hanno. Per esempio loro sono molto... Asperger. Che è uno ad alto funzionamento, ma in genere anche quelli che non hanno questo tipo di livello alto, che l'Asperger è un livello alto di funzionamento, anche quelli che hanno un livello meno importante, sono capaci di fare prestazioni in alcuni ambiti, soprattutto negli ambiti di tipo geometrico, negli schemi ripetitivi, superiori a quelli che fa una persona normale. Tanto è vero che ci sono delle evidenze scientifiche in alcuni posti più avanzati, in Francia, a Lione e a Tours, oppure in Canada, a Ottawa, dove questi pazienti vengono utilizzati in funzione di ricerca. Quindi questo tipo di visione che noi avevamo, che ha trovato riscontri internazionali, mi ha molto incoraggiato nel definire il nostro percorso, perché noi volevamo garantire questo, sia a tutti la possibilità nel pubblico di avere queste cose e sia di poter incanararli in un discorso un po' diverso. Tanto è vero che cominciamo, ai tempi della gestione Morgante, ad interfacciarci con i gruppi più organizzati della società, tipo per esempio la Camera del Commercio, alcuni gruppi industriali, per poter valutare con loro la possibilità di poterli inserire in un percorso lavorativo che non fosse quello assistenzialistico. Senti Pietro, ma numerosi convegni, sei stato relatore, hai organizzato, ma sei anche l'autore di un percorso irpino dell'autismo, che ha fatto grande successo un po' in tutta Italia. Beh, grazie mille, io di questo sono veramente orgoglioso, perché la nostra Irpinia, provincia molto periferica della regione Campania, ha strutturato un percorso che viene studiato in tutta Italia, e anche regioni cosiddette virtuose dal punto di vista del welfare state, non garantiscono quello che garantiamo noi. Noi garantiamo, e tu lo sai bene, da 0 a 7 anni, 12 ore di ABBA, che è il paradigma più avanzato, poi ne garantiamo 8 da 12 a 14, nel pubblico, nonché parental training, cioè i genitori, nonché supervisione. Nella, diciamo così, Romagna, Toscana, così, il pubblico da due ore, due ore, il resto è a carico dei familiari. Quindi questo, al di là poi della definizione degli step, che tu hai ben in chiaro, perché hai contribuito insieme a tanti altri, insieme a me, a definire il percorso. Adesso questo è studiato a livello nazionale, non c'è nessuna esperienza a livello nazionale, che garantisce questo tipo di prestazioni ambulatoriali e nei contesti di vita, nonché prestazioni semiresidenziali nel pubblico. Perché noi abbiamo, Sant'Angelo dei Lombardi, di là della difficoltà, abbiamo un modulo under 18 pieno, un modulo over 18 stracolmo. Adesso noi speriamo, siccome quella è una realtà che per certi aspetti penalizza alcune realtà, diciamo così, della cosiddetta bassa irpinia, ma noi stiamo in attesa che Valle ci venga concesso in comodato d'uso per poter ripetere o allargare queste esperienze. Allora, parliamo di Valle adesso, che è l'ultima cosa. Gestione privata, gestione mista, c'è qualcuno che dice che la maggioranza sia espressa per la gestione pubblica diretta da parte dell'Astro. E tu? Allora, noi abbiamo fatto già la parola, il dottore Dragone, al direttore generale, che noi nel momento in cui Valle ci viene dato incomodato d'uso perché per poter entrare in quella struttura ci deve essere affidata, noi andremo alla gestione diretta. Abbiamo sia il supporto economico, abbiamo un finanziamento di un milione e quattrocentomila euro, tra parentesi, se abbiamo già una parte di personale che dovrebbe andare lì. Abbiamo il neuro-psychiatore infantile, abbiamo uno psicologo, abbiamo un assistente sociale, abbiamo un infermiere, alcune figure ce le abbiamo già, altre le possiamo prendere dalle graduatorie aperte che abbiamo di terapisti della riabilitazione, di psicologi di base, adesso così, e quello che manca, che dovremmo andare a un avviso, è il terapista occupazionale e nemmeno l'educatore professionale, perché sono figure che non esistono e sono difficili da reperire, però noi abbiamo il finanziamento per poterlo fare. Noi siamo pronti con un programma anche rapido ad andare lì a fare delle cose e le voglio precisare ancora una volta perché io sono stato il sottoscrittore, già ai tempi della dottoressa Morgante, del protocollo d'intesa con l'intermediazione del prefetto Spera, dove definimmo ancora una volta quello che andiamo a fare nel momento in cui ce l'avremo, la struttura chiaramente. Quanto tempo fa l'avete fatta? 2021 e adesso l'abbiamo fatta anche prima che la dottoressa Morgante se ne andasse, febbraio 2022, perché la dottoressa Morgante l'8 agosto 2022 è andata così, 2022, poi andammo a fare un altro tipo di incontro, sempre con il prefetto, con il Ferrante, con questa volta... Presente il sindaco? Altro che, lui si impegnò a fare, come si chiama la cosa sanante, no, dopodiché... E' stata fatta. E poi ci doveva, diciamo così, dare questo tipo di strutture incomodate d'uso, addirittura in quella, l'ultima volta che ci siamo... Richiesta ufficiale, scusami, avete chiesto per iscritto, perché dice che non c'è documento o qualcuno dice... Lo sottoscriviamo, noi aspettiamo questo, dopodiché, anzi, addirittura ci impegniamo in quella sede, lui avrebbe fatto questa, diciamo così, cosa sanante, diciamo così. Noi avremmo mandato, tra virgolette, è stato fatto, i nostri tecnici a vedere insieme a quelli del Comune la struttura per vedere gli adeguamenti, per poter fare le attività sanitarie e ci sono stati già due incontri dove noi abbiamo sottolineato le cose che non andavano e che andavano, diciamo così, ristrutturate per poter fare queste attività sanitarie, che ripeto ancora una volta, caro Miguel Angelo, grazie di questa occasione, cosa andremo a fare lì? Andrà il coordinamento dei nuclei di neuro-presidente infantile territoriali, diretti dal dottor Dragone, andranno le attività del distretto di Avellino, rispetto a così, andranno due moduli semi-residenziali di 10 posti, Andri 18 e Over 18, con tutte le attività riabilitati previste. Devo ringraziarti, anche perché alcune cose che tu hai detto smentiscono altre che vengono riportate dal giornale, è chiarissimo, è semplice e non c'è nessuna obiezione, io ti ringrazio tanto e penso che le cose andranno come dici tu. Ma io sono contento perché ho letto finalmente sul mattino che c'è stata una presa di posizione importante dei consiglieri, che hanno riportato esattamente le cose che esistevano, che hanno in qualche modo sbugiardato il sindaco, perché onestamente qui voglio chiudere con un famoso fasso di Confucio, dicevo Confucio, grande filosofo, che le persone moralmente apposta non temono la verità, mentre invece le persone di poco conto prima o poi cadono di fronte alle menzogne. Grazie.